per prima cosa facciamo le uova sode allora il tuorlo deve diventare cotto è non deve essere alla cocca intanto che le uova cuociono preparo un emulsione con pepe sale uno spicchio di aglio poi olio un buon olio è diciamo un paio di cucchiai d'olio ecco e poi ci metterò anche il succo di un limone ecco qua anche il succo del limone e così tolto i nocciolini in questo periodo uso dei limoni che non sono trattati si chiamano femminiello si trovano un po in tutti i negozi e dunque adesso mixo il tutto o è cellulare per cui vi farò vedere l'operazione quando sarà già conclusa ecco fatto adesso aggiungo però ancora un pochino d'olio e riparto con il mixer e buona fortuna le uova sono pronte adesso le passo sotto l'acqua scusate l'acqua fredda poi le sguscio nel modo classico eccole qua ben sgusciate adesso le taglio in modo da estrarre il giallo dell'uovo il cuorlo cioè che metterò dentro quella salsina con l'emulsione che ho preparato è il giallo va dentro l'iter il giallo è la parte gialla dell'uovo il tuorlo perché poi verrà emulsionato a sua volta ecco qua bene tutto tutto perfetto l'alè col mixer ancora vedete dov'è avevo già preparato dei cavolfiori che avevo preparato al vapore perciò li ho conditi con un pochino solo di olio fino di pepe e di sale e questa salsina serve proprio per i cavolfiori saranno buonissimi questo è un piatto che è pieno di sali minerali e cavolfiori ne ha molti e mettendo anche l'albume dell'uovo tritato anche di proteine praticamente potrebbe essere anche un piatto unico va bene spero che vi sia piaciuta la ricetta questa è una salsa facilissima da fare più leggera della salsa maionese senz'altro perché il tuorlo d'uovo comunque cotto spero vi sia piaciuta e niente alla prossima ricetta io dico solo gnam questo me lo mangio ciao mettete un like se vi è piaciuta la ricetta ciao a tutti mmm che buono questo me lo mangio io è buonissimo ciao ciao